L'educazione ambientale e la corretta gestione dei rifiuti non sono solo un dovere ma anche un investimento sul nostro territorio perché sono la base della tutela delle nostre città e possono rivelarsi anche un utile strumento di risparmio. Proprio per questo da anni l'amministrazione comunale di Arzeniano investe su questo settore partendo dalle scuole primarie. Nei giorni scorsi grazie alla collaborazione con Agno Chiampo Ambiente sono state organizzate con il supporto dell'Ufficio Ambiente del Comune delle vere e proprie lezioni nei due istituti comprensivi di Arzeniano, Comprensivo 1 e Comprensivo Parise. Sono coinvolte 13 classe terze delle scuole primarie arzignanesi, quasi 300 all'unni. Le immagini si riferiscono alle lezioni tenute nella scuola primaria Fogazzaro di Corso Mazzini. L'educazione ambientale è un progetto che con gli altri progetti educativi ecologici come Puliamo il mondo e la festa degli alberi sono organizzati e finanziati dal Comune di Arzeniano, organizzati dall'Ufficio Ambiente. educazione ambientale parliamo di rifiuti con i bambini delle classi terze di entrambi i comprensivi. Parliamo di rifiuti, di come si differenziano e di come si possono riutilizzare. È un progetto molto importante perché tutti gradiscono una città più pulita, tutti desiderano che Arzeniano sia un comune riciclone.